Il 2024 della Onlus Gulliver si arricchisce di nuove sfide. Dopo il successo di Utopia, che dall'alberghiero Santa Marta è pronto ad allargarsi in versione invernale al Parco Miralfiore, arriva pure Anemo Tour, un patto fra la Onlus Gulliver e Musei Civici, capace di formare anche ragazzi con disabilità nel diventare guide turistiche e museali nello spirito inclusivo di Pesaro 2024. Dopo la bellissima esperienza estiva del Festival d'Utopia, apriamo altre esperienze per i nostri ragazzi. Questo è un progetto innovativo per tutta Italia, dove dei ragazzi con disabilità, parliamo di autismo, ragazzi con simone di down, dei ragazzi non vedenti, saranno formati nell'essere ciceroni, mini guide turistiche nella nostra Pesaro. Pensiamo che non esista ad oggi un servizio istituzionale di mini tour o guide turistiche cittadine. Noi andremo a formare questi ragazzi che saranno i ciceroni di turisti o anche di abitanti della provincia che vengono a Pesaro in turismo a visitare la nostra città. Siamo felici di fare queste guide turistiche nei musei civici che sono molto importanti nel nostro paese e anche accompagnati da ragazzi che parlano in inglese, che traducono quello che diciamo noi in italiano oppure possono essere anche spagnoli in tutte le lingue per aiutare i turisti a capire la storia del nostro paese. Vogliamo aiutare anche gente che ha ad esempio famiglie con disabilità che non hanno futuro di guardare la città per mobilità e noi la mostriamo, gli diamo una mano, io sono qui anche per dare una mano alla gente che non ha possibilità. C'è tanto da scoprire anche da riscoprire sul nostro capitale della cultura. All'interno dei nostri 44 progetti della capitale della cultura l'inclusività è la chiave per leggere la cultura pesarese in particolare i progetti dedicati alle scuole e ancora più all'interno di Botanica Partecipata che è un grande progetto le cui linee guide si fondano proprio su quello che è la sensibilità al sistema ecologico in tutti i sensi. Quindi partendo da un concetto di biodiversità siamo riusciti ad estendere in maniera immaginifica questo concetto a tutti gli ambiti. Quindi a partire dalla natura delle nostre territori anche attraversando appunto la natura umana si riuscirà ad andare a colpire quelle che sono i nostri plus della cultura e in particolare i musei. Non solo a Nemo Tour da gennaio ci sarà pure Utopia in versione invernale al Parco Miralfiore. Sì questa è una grande novità di quest'odio abbiamo avuto l'ufficialità dell'assegnazione del bar Ristoro al Parco Miralfiore al gruppo di Utopia. Quindi dall'8 gennaio il bar Ristoro sarà aperto e faremo anche una piccola puntata prima il 31 dicembre con un'apertura speciale. Siamo contenti, ringraziamo l'Avistoro Comunale per il sostegno e per la fiducia che dà tutto quanto il gruppo di Utopia. Utopia che è diventata anche un vino. Montepulciano Rosso o Verdicchio Bianco. È in vendita in Piazza Redi a Pesaro nella bottega del Riuso e sarà in vendita poi nel ristorante al Parco Miralfiore per sostenere il progetto, i vari progetti di Utopia. Nostro consiglio venite a trovare, prendete una bottiglia per regalo o per Natale perché è un buonissimo vino.